Unisiani, oggi faremo un episodio della vanilla e adesso ci sarà Chiara? Ci sono, ciao, 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 sto soffrendo perché ho un cornetto davanti Eh beh, sì esatto e poi alla gente interessa molto, comunque oggi ti vedo molto, molto forte, cioè molto ad alta voce Ma, ma, sai Per la prima parte di questo video Chiara dobbiamo un attimino vedere qua come funziona la situazione Perché come puoi vedere purtroppo qua, la storia si sta espannendo Chi l'aveva visto questo? Noi stiamo già costruendo la casa lì però Eh, io a volte ci do un'occhiata, io l'avevo visto Praticamente questa è la maledizione che si sta espandendo Vedi che sembra però che sta arrivando dal neder, sta arrivando verso questa parte Eh, infatti, e poi non ci dobbiamo costruire le case però Esatto, è come se ci stessi seguendo, questo è il punto, se ci dobbiamo costruire le case a noi come facciamo? Domanda Eh, diventa una situazione molto complicata, soprattutto perché se poi dopo arrivano Non lo so, i ghoul per esempio, no? Mi sto parlando che i ghoul I ghoul, sì vabbè Eh, ci ammazzano, ci ammazzano proprio Eh, giusto, è logico Mi stava anche venendo un piccolo ruttino ma non l'ho fatto perché sono una persona educata Eh, sei scostumato, sei scostumato Non ti permettere perché ti vanno... Allora, purtroppo oggi i dunisiani Angelo non c'è potuto essere nemmeno Gabri Perché hanno dei problemi tecnici assurdi Gabri, vabbè, Gabri non ne parliamo Però Angelo, Angelo ha dei problemi tecnici Tutto rotto, la connessione è rotta Sì, assolutamente, assolutamente Magari vuole fare una comparsa adesso, non so, boh Magari, magari sì, magari no Magari? Non pare, vabbè, allora stia zitta, taccia per sempre, va bene Allora, Chiara Ma dovrei parlare Ma salve Angelo, come stai? No, adesso stai zitto e stai muto Eh, comunque, vabbè È stato molto bello sentirti, no? È vero, dunisiani, è stato anche molto bello sentire la sua... No, ma anche no, cioè, anche no Vero, Chiara fa schifo Allora, praticamente, Chiara, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare prima di tutto queste case Maledette, che voi avete costruito e che siamo solamente all'inizio Perché siete degli scansafatiche, ma questo era ovvio Ehi, allora Però, devo dire che la casa... Questa casa è costata? Eh, non lo so Sì, Chiara, però è un'ora di fame Eh, beh, questo, caspita, un'ora di fame è veramente tanto Ma a parte che non dovrebbe essere un lavoro, ma dovrebbe essere un piacere Minecraft, no? Sto scherzando È l'oggio che mi piace Minecraft Secondo me non ti piace più, ormai tu sei diventata vecchia No, ormai io gioco solo alle Bedwars Perché sono vecchia Eh, esatto, esatto, brava Comunque, Chiara, io direi che tu puoi continuare a costruire questa casa Fai quel che vuoi Io devo andare con i donisiani È una giornata molto intima fra me e i donisiani, no? Dobbiamo scoprire qualcosa Esatto Esatto Va bene Miseria schifosa di quelle miserie Mannare, te ne vai via, porta scrofa Ciao Ho appena sbucato dal terreno Ma adesso vi facciamo vedere a Chiara, eh? Adesso vi facciamo vedere Perché lei non sa, lei non sa che cosa è Io sto per andare a fare Ma adesso vado a nascondermi qua nella zona maledetta Che fra l'altro ho detto fra me e voi È proprio inquietante, cioè veramente E poi guardate anche la nuvola di Non so, dello scorso episodio Se voi avete visto Gli scorsi episodi Comunque non ci sono aggiornamenti di questa cosa È veramente molto inquietante Però adesso dobbiamo fare lo scherzo a Chiara Quindi non perdiamoci in chiacchiere Allora Facciamo di Non so, in cosa ci sgaiziamo In un Blaze, assolutamente Perfetto Io a Chiara gli avevo detto Che magari ci mettiamo anche la game mode creative, eh? Perché è molto importante Allora Io a Chiara gli avevo detto, i donisiani Che andavamo a Non so, in giro Ad esplorare, a trovare Nuove risorse, no? Per il mondo E soprattutto a vedere Se c'entra qualcosa con la maledizione Oppure no Ora Secondo me Lei ci crede a questa storia del Blaze Perché comunque Il Nether e la maledizione Ci sta abbastanza bene Quindi Secondo me Lei dice Non è che fa parte della maledizione Cioè Io andrei a pensare subito a quello Se vedessi un Blaze Nel mio mondo Con una maledizione in corso Poi boh Non so voi Allora Praticamente adesso C'è questo Blaze comunque Che mi fa ridere Perché sta volando in modo strano Vediamo Adesso ci facciamo vedere Da Chiara Perché Eccolo qua Eccolo qua Adesso dobbiamo sparire Veloce, veloce, veloce Non ci dobbiamo far vedere Dunisiani Dobbiamo far finta Di non esistere Ok Avete visto Avete visto Adesso Ma Sinceramente Chissà cosa Cosa penserà lei Perché io mi immagino Sta sta Taleino Che fa tipo Che cazzo Che cazzo Stupida Ma è stupida Ma è stupida No scusate Ci stava attaccando il Blaze Cioè è un po' Un po' sciocchina Se posso dirla mia Vabbè Adesso però sapete In cosa ci trasformiamo Ci trasformiamo In una cosa Più inquietante Perché magari il Blaze Dici vabbè È uscito dalla zona Della maledizione Però Fatemi pensare Cos'è che ci potrebbe essere Allora ci potrebbe essere L'Ender Dragon Beh Beh Io non è che vorrei dire Denis Dimmi Chiara Ma c'è Perché c'è un Blaze Nell'Overworld Come c'è un Blaze Nell'Overworld Cosa Cosa dici Eh Perché Non lo so Prima è venuto un Blaze qui Bo Non ti staccavo gli alberi Non so Io guarda che sto Sto andando qua in giro Per trovare appunto Quelle cose che ti avevo detto Ma non mi pare Ma lo sai che La spawnano un po' di cose Del Nether Quindi forse Può essere Eh lo so però Cioè Non è una cosa buona Eh Mi sa che può essere Vabbè Se tu vedi qualcosa di strano Comunque avvertimi immediatamente Perché allora dobbiamo Usare i trucchi Perché per forza Cioè non è che possiamo Farci distruggere il mondo Quindi Mi raccomando Fa bene Perfetto Grazie mille Ok vediamo se C'è ancora Ci sei? Ok no Doniziani no Doniziani Doniziani Ce la stiamo facendo Ok ma Perché questa cosa Del Nether No è molto credibile È molto credibile Cioè è praticamente Un escamotage Non so se voi sapete Cosa vuol dire Adesso però ci trasformiamo In un Ender Dragon No non un Ender Crystal Magari ma un Ender Dragon Oh caspita Ok adesso praticamente Devo volare Su alto nei cieli Adesso vado Il raso terra Dove c'è lei Guarda 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 Eh Eh Porca miseria Dobbiamo stare Stare attentissimi Subito In un Blaze In un Blaze Aspettate un attimo Che qua c'è una situazione Che non va bene Perché praticamente Sto sentendo rumori Se sentite rumori La persona che fa rumori qua È pregata di non farli più Grazie Perfetto Spero che Si sia capito Tutta la situazione No In cui io sono immerso In questo momento Comunque Duenisiani È molto importante Ma Secondo me è scema Cioè Oh Non ha visto l'Ender Dragon Vabbè Meglio così Meglio così Adesso Adesso magari Gli faccio spawnare Il Weeder Eh Direi che è una buona scelta No Come come Eh Weeder No 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 Come si fa Ah Weeder Così Ok perfetto Allora Attenzione Che adesso Adesso andiamo a distruggere Chiara Però sarebbe bello anche Tirare tipo Come che si chiama Le Fireball Fireball Ci starebbe Ci starebbe Via via le Fireball Sì 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 Ci stanno troppo le Fireball Guardate Guardate Sbada bene No come Non posso vero Non posso Non posso tirare le Fireball Mi sa di no Però guardate Ma è stupida Cioè no Raga È scema Cioè Non sta a vedere Ma è scema Ma è scusate È scema No è seriamente Non sta vedendo Ma si vede che è un po' Nabbina Questa Questa Chiara Beh Vabbè ci sta Dopotutto No ma secondo me Perché non gioca Da un po' Di tempo a Minecraft Quindi No è chiaro Che si sia un po' Dennis Dimmi Dimmi Chiara Cosa mi stavi dicendo Chiara C'è stata un'interruzione Tecnica Perché purtroppo Vabbè Cose Dimmi Chiara Perché No sperazzo Scuscu Dimmi Scuscu Eh no scusa Scusa Sì sì lo so Bah Mi è spawnato Un Ender Dragon Però ender domani mattina Per favore Eh un Ender Dragon Un Ender Dragon Che neanche mi attaccava Quindi Boh Un Ender Dragon Ma che cazzo Scusa Chiara E quando non c'entra col nether Ma che cosa dici Ma va Eh Un Ender Dragon No aspetta Un Ender Dragon Vabbè ok E dopo un Wither Ma Dimmi Chiara Ma no Chiara Questa cosa è impossibile Poi c'è un pistrello No vabbè c'è il pistrello Che mi picchia Oh non me me no Ma Chiara Non è possibile Cioè tu Adesso mi stai Mi stai facendo Girare le scatole Mi prendi ancora per il culo Io ho detto che sto registrando No Ai sono seria Sei seria Ma stai scherzando Ma stai scherzando Quindi sei seria Eh sono seria Ma sei stupido Boh Mi sembra Allora c'entra davvero No niente Allora dobbiamo per forza intervenire Beh Sai Boh non so Chiara Cioè Questo mondo è abbastanza maledetto Cioè Io sono abbastanza interdetto Riguardo a questa cosa Comunque girati un attimo Ah stupida Ero io Ah ah Stupida Stupida Ero io Eh Ero pure in creativa Perché ovviamente No però Cioè Ma vai veramente a quel paese No 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 Come Siamo amici no Non più Ma sai Vi dico che un po' L'avevo capito dal pipistrello Che mi picchiava Perché L'avevi capito No non è vero Non è vero Non hai capito niente Te lo dico Cioè Tu eri completamente L'era Si sentiva completamente Ti eri messo pure sulla difensiva Cioè Ma figuriamoci Non hai capito Quando mai hai capito Vabbè Vabbè È stato veramente divertente Da registrare No Non è vero Assolutamente Sì Chiarissima Chiara Lo dimostrano Le persone Che lo stanno guardando Ora scrivete Se è stato divertente Oppure no Scrivete Si dunis divertente Si dunis divertente Così vi do il pulicino E vi Ma vi do anche Un muah Vabbè Che belli Che siete Che schifo Denis Cosa c'è Sono molto simpatici Quando scrivono Quando commentano Soprattutto Non scrive Soprattutto Non osate Scrivere Anna Maria Nei commenti Perché se vi vedo Che è un meme di tiktok Se è un nostro meme di tiktok Fai finta Perché se vi vedo Porca miseria Prenda il death note E scrivo tutti Quindi Doniziani Siete rimati Fino a questo punto Vabbè Non vi rompo ancora Le scatole Perché sennò Chiara È stupida Però le voglio tanto bene Io sono stupida Vabbè Angelo Oppure è stupido Ma le voglio pure a lui Tanto bene Anche se non Probabilmente non risponderà Perché boh Starà mangiando Sì Ma sì Ormai qui si mangia solo Sì Chissà cosa Beh comunque Noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao